Secondo, per la sicurezza che è la missione principale affidata all'ENAC, questo, il 2013, è stato l'anno migliore nella storia dell'aviazione civile. A livello internazionale, nel senso che il numero di incidenti con vittime si è molto ridotto, il saldo generale di Stati Uniti ed Europa è di 2.1 incidenti mortali per 10 milioni di volte, che è quindi una cifra altissima, per gli Stati Uniti di 2 per l'Europa. Per l'Italia, non lo voglio dire perché ogni volta c'è come dire, per l'Italia siamo a 12 milioni di voli con 0 incidenti. Quindi è chiaro che noi dobbiamo tutti quanti, a parte gli esorcismi, aumentare gli sforzi per mantenere un livello che statisticamente è addirittura impensabile e per questo l'invito che noi facciamo a tutti, le compagnie aeree, i vettori, in particolare l'ENAV, che appunto oggi qui ci parlerà. Purtroppo il 2014 è stato funestato da un incidente in Malesia che è dovuto probabilmente a una scarsa copertura radaristica che adesso appunto l'ENAV ha acquisito come commessa e dovrebbe farlo. Grazie a tutti.